Forza la Juve, la Juve, la Juveale, è bianco nera la bella signora, ma ne la Juve, la Juve, la Juveale, solo la Juve è grande la Juveale. Juveale, 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 campani, migliorari, a noi, sono tornato a piacere all'estero, sono stato un cazzo, si, sono stato a vedere una partita amichevole, una partita amichevole, che si chiama Supercoppa Italiana, una coppetta da niente, una coppetta e un'altra partita, che ci votevamo risparmiare di fuori, sono stato con mio figlio, siamo stati sfortunatissimi, ma la Juve, non potrava, adesso vuoi il compa italiano, ad esempio le coppie italiane non interessava, perché adesso vuoi le coppie italiane non è importante, non è importante, non è importante, non è importante, non è conto, non è conto, è una coppetta, è una coppetta, noi abbiamo fatto, noi siamo stati là, per fare, un'aboluzione, un'azione cristiana, è un paese, è un cristiano, siamo stati là per fare un regalo di rotazione a Napoli, si, perché noi non ci senevamo, perché noi abbiamo un paese della Supercoppa Italiana, non ci interessa, noi non portavamo la Supercoppa, e poi, la Juve ha altri obiettivi quest'anno, la Juve deve vincere la Champions League, il campionato, la Coppa Italia, quelli sono gli obiettivi della Juve, queste sono le coppette, queste sono le squadrette, si, non vuole niente, la Supercoppa, si, non vuole niente, non vuole niente, e poi, noi in Napoli lo posteremo, a San Paolo, che aveva 15 giorni, dovrebbe essere dei torri, gli spetteremo le regole, 10 giorni, i campionati, e poi la Juve era stanca, la Juve ha giocato 16 ore di campionato, e segnare le coppe internazionali e la zonca, perciò non ha finito questo pepevole. Dovete, ecco tu, facciamo come di Vincenzo, questo non è il capo di facciamo che di Vincenzo, e poi continuiamo a dire che l'invito da noi. Da quest'anno abbiamo fatto una grande annusa. E' un tipo di Pettacoli! Ma io rispondo, faccio fin da che c'è la segreteria! Rispondelo a te che io telefonico, stiamo a trattare il mio messaggio! Pronto? Io non ho! E' la segreteria! Io non ho capito che ci sto a pagare la segreteria, io non ho! Io non ho! Ma non ci dovete spezzare le vene in Qatar! O Qatar è venuta a Teno, io non ho! Io non ho! E allora? Che? Non parlo, io non ho! Io non ho già fatto una domanda! Ma non ci dovete spezzare le vene! Mannaggia la miseria, io non ti preoccupare, io non ho! Tanto ora, fra qualche settimana, venite a Napoli, ci spezzate a Napoli i treni! Io non ho! 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 e non ti preoccupare che ti rifai in Italia ti rifai sempre non ti preoccupare che in Italia c'è i santi in paradiso e quando c'è bisogno ti danno sempre una mano ci spezzeranno i reni stati pure ecco avete visto che succede questi tipo sindopoli vengono le coriore che vuole e poi non vogliono scusare sono perseguitato mi perseguitano sono un mortire sono un mortire sì mi perseguitano il giugno morale è perseguitato da questi tiposi da Napoli e dalle squadritte e che cospito non sono sportivi io perché sono stato sportivissimo non voglio affidare di quella amichevole come come raffallo ho parato l'ultimo regolo e il mio figlio è stato uscito di corsa dall'estadio perché è sportivo e non volevo vedere la professione di uno squadritte che perde la coperta sì beh io mi accorgo solo ci fosse io mettete e poi c'è sì come ma ci accorgo per un grande 2015 e la 2015 dispensa per ieri a tutti i conti e io l'Europa a cominciare dall'escolta e con la luce io voglio mi sento mi da la luce io ho entro il fascisto con figlio e nel porto io ho entro il fascisto porto io ho entro il fascisto mi saluto e mi do la luce a me 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 Comune, veglielo a me! Grazie!